bella ragazza a tutti benvenuti in questo nuovo video allora ragazzi oggi come avete ben letto dal titolo andiamo a parlare della coppiata o meglio di come andare a misurare la tolleranza che abbiamo fra il nostro cilindro e il nostro pistone qui abbiamo un malossi 70 testa rossa di device con il relativo pistone che all'attivo una giornata di pista sono curioso di verificare il consumo di questo pistone dopo alcune prove fatte sul motore e di conseguenza oggi andiamo a vedere insieme come possiamo farlo ovviamente il procedimento è uguale sia che il pistone usato sia che il pistone nuovo non cambia assolutamente niente ovviamente leggeremo delle tolleranze chiaramente diverse questo motore è quello di dev quindi prenderemo in esame questo perché ultimamente sto lavorando molto sul 70 e approfitto per dirvi che questo weekend sabato 8 e domenica 9 saremo in provincia di ferrara autodromo di pomposa per il trofeo malossi corre la dev ci saremo io e tutti gli altri ragazzi quindi se qualcuno di voi avesse intenzione di venire a vedere la gara dal vivo l'ingresso è libero e gratuito vi aspettiamo anche perché abbiamo un sacco di gorilla da darvi quindi dobbiamo liberare assolutamente il magazzino che il buon lui si ha fornito quindi vi aspettiamo in pista quindi io ragazzi non perderei ulteriore tempo mi sposterei direttamente sul banco anche perché per fare questo tipo di lavoro ci serve un'attrezzatura specifica e magari un minimo di marca in questo caso utilizzeremo tutta componentistica borletti che non è una brutta marca funziona molto bene già qualche tempo che la utilizzo quindi va veramente alla grande andiamo un attimino a misurare il pistone e il cilindro vediamo procedimento e anche qualche piccolo consiglio tecnico per chi volesse approcciarsi o più semplicemente per chi magari ha interesse ad avere qualche piccolo tips in merito a pistone e cilindro molto bene ragazzi allora eccoci qua sul banco con i nostri attrezzi e cilindro pistone allora partiamo dal cilindro andiamo a misurare diametro centesimale e andiamo a verificare anche l'ovalità poi vi parlo di che cos'è per quanto riguarda il pistone è un pistone con circa 20 litri all'attivo montato con una tolleranza di 4 centesimi da nuovo e andiamo poi a verificare quello che è il diametro preciso centesimale ho già effettuato lo zero agli strumenti questo per evitare di avere false misurazioni o meglio cercare di evitare le false misurazioni ho già fatto due misurazioni alla veloce per azzerare più facilmente i nostri strumenti io direi di partire dal nostro cilindro quindi spostiamoci un attimo dal pistone cilindro il cilindro come va misurato noi dobbiamo misurare il diametro centesimale appunto della canna la canna è perfettamente rotonda ed è per questo che non va misurato a caso ma va misurato su due assi in questo video parleremo di perpendicolare allo scarico e parallelo allo scarico perché se tracciassimo due rette siamo paralleli e così invece siamo perpendicolari in modo da farmi capire un po meglio in questo caso possiamo verificare a parte il diametro centesimale del nostro cilindro quindi della nostra canna ma possiamo anche verificare l'ovalità l'ovalizzazione della nostra canna cosa significa il pistone quando va a lavorare nel nostro motore ipotizziamo che abbiamo lo scarico in là quando lavora il pistone lavora in questo modo lavorando in questo modo va a spingere contro lo scarico che poi viene spinto indietro contro il fronte scarico quindi si hanno molte più spinte in questo senso quindi perpendicolari allo scarico rispetto che paralleli allo scarico ovviamente le spinte sono dappertutto però se dopo analizzeremo il pistone noteremo che è molto più consumato in modo perpendicolare dello scarico abbiamo l'alesametro che io già azzerato e lo andiamo a posizionare all'interno della canna partiamo in maniera perpendicolare e ci allineiamo perfettamente allora la nostra lancetta sale 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 finché raggiunge un punto massimo e torna indietro il punto massimo è quando noi siamo perfettamente dritti all'interno della canna e qui abbiamo lo zero spaccato quindi qui abbiamo già rilevato il nostro diametro preciso andiamo a controllare ora paralleli allo scarico per vedere se abbiamo dell'ovalità quindi ci riposizioniamo come prima ma paralleli andiamo nella punto di massima alzata ed eccoci qua siamo perfettamente a zero ciò significa che il nostro cilindro è perfettamente rotondo nella canna ovviamente oltre a misurare nella parte alta si potrebbe anche misurare nella parte bassa ma in questo caso l'ho già fatto è perfettamente cilindrico e non ci interessa ripeterlo anche perché il procedimento è identico in questo modo avendo già fatto anche eccoci qua lo zero con l'alesametro abbiamo anche rilevato il diametro effettivo del nostro cilindro con il nostro strumento questo perché lo zero è il nostro diametro effettivo quindi spostiamoci dal cilindro e ora concentriamoci sul pistone quello che vi dicevo prima questo è un pistone con circa 20 litri che abbiamo fatto una giornata in pista con dev il pistone è stato montato con una tolleranza da nuovo di 4 centesimi rispetto alla nostra canna del cilindro e andiamo ad analizzare quello che è appunto il discorso delle spinte che vi parlavo prima andiamo a vedere lateralmente cavo un po di magari olio un po di sporcizia lateralmente vedete anche contro luce non abbiamo troppa parte lucidata del nostro pistone andiamo dall'altra parte vedete qui un po più lucido però non è proprio ha lavorato si vede che ha lavorato ma se noi andassimo a guardare nello scarico guardate nella parte di scarico quanto è lucido questo pistone perché come vi dicevo precedentemente il pistone lavora sempre in spinta maggiore verso diciamo lo scarico e anche nella parte fronte scarico centralmente è molto più lucido rispetto che lateralmente questo per farvi capire il concetto che vi dicevo prima ora eseguiamo la misura del nostro pistone prendiamo il nostro micrometro purtroppo non ho il supporto quindi in questo caso ci improvviseremo con la nostra amata morsa ci andiamo ad appoggiare si non hai neanche le placche di alluminio non ci interessa andate sereni dove si misura il pistone il pistone non è dritto ovvero il mantello non è dritto ma è conico ovviamente si parla sempre anche qui di centesimi perché il pistone è conico perché nella parte inferiore del mantello noi abbiamo la miscela fresca di benzina e aria che entra dal motore e quindi benzina fresca va a raffreddare la parte inferiore del pistone ma nella parte alta abbiamo la combustione quindi qui c'è la fiamma il fuoco vero e quindi la parte superiore si scalderà sempre in maniera maggiore rispetto che l'inferiore questo spiega anche perché i pistoni sotto sono molto sottili invece il cielo lo spessore del cielo è molto più importante rispetto allo spessore del mantello nella parte bassa questo perché serve più materiale per il discorso di latazioni termiche ed è per questo che il pistone non è dritto ma è conico quindi procediamo con la misurazione andiamo nel nostro micrometro ovviamente sempre le crocs perché ovviamente senza crocs non si può lavorare ed andiamo a rilevare la misura nel punto più basso possibile del nostro mantello utilizziamo la frizione per evitare di avere false misurazioni blocchiamo la misura e andiamo a far passare il nostro pistone che deve passare leggermente unito ok in questo caso il nostro pistone è leggermente unito ora qui abbiamo la misura precisa centesimale del nostro pistone qua abbiamo la misura precisa centesimale del nostro cilindro andando ad accoppiare l'alesametro con il micrometro come se fosse un cilindro andiamo a rilevare quanti centesimi ci sono di differenza o meglio di tolleranza fra i due in questo caso andando a rilevare abbiamo circa 6 centesimi e mezzo 7 si 6 centesimi e mezzo precisi precisi quindi questa è la nostra tolleranza che abbiamo attualmente dopo 20 litri il pistone si è consumato circa di 2,5 centesimi rispetto al nostro cilindro ragazzi facciamo qualche parolina in merito all'accoppiaggio invece da nuovo perché ci sono diversi miti un attimino da sfatare allora questo tipo di motore io lo vado ad accoppiare da nuovo a 4 centesimi ora tanto o poco che possa sembrare ognuno deve fare le sue prove deve fare la sua strada il suo setup e tutto quanto ma il tutto deve partire da un corretto montaggio dei componenti io questo motore se lo montassi a 8 centesimi lo accendo arriva a 10 questo è bollito certi tipi di motori se io li montassi a meno di 8 centesimi inchioderebbero dal cavalletto quindi bisogna sempre innanzitutto valutare il tipo di impiego il setup importantissimo e poi ne parleremo ma soprattutto la tipologia di motore perché ogni motore ha funzioni lavori stress giri motore ogni motore è completamente a sé anche questi motori qui preparati da tre persone diverse ogni motore vuole una cosa diversa quindi figuratevi voi fra un motore da scooter un motore cartistico un motore da enduro eccetera eccetera quindi bisogna intanto allarme bisogna quindi stare attenti al principio quindi che tipo di motore è che tipo di impiego un uso cittadino squish rapporto di compressione diciamo dalla parte dei bottoni lubrificazione carburazione non tirate garantiscono un'usura minore del nostro pistone roba da pista quindi tolleranze temperature carburazioni tirate e tutto un po aumentano le temperature aumenta la potenza aumenta lo stress e lui ne risente quindi bisogna sempre scegliere la strada più conveniente una cosa che vi dico provata personalmente non è il centesimo più stretto o più largo che fa andare un motore assolutamente quindi rispettate pure quella che è la tolleranza che vi dice la casa poi se fate dei motori da corsa potete provare più stretto più largo andate a vedere il pistone come spinge come lavora come si consuma e in base anche al tipo di setup di carburazione quindi è un argomento molto vario che bisognerebbe stare qui a parlarne per ore però l'accoppiamento da nuovo con il procedimento che abbiamo visto oggi va sempre a pari passo con quello che è il manuale diciamo di uso e manutenzione fra virgolette quindi quello che vi dice il produttore poi in questo caso malossi esempio dice 5 centesimi io voglio fare le mie prove il motore mio provo 3 3 mezzo 4 6 e vado a vedere il motore come si consuma come lavora ma soprattutto cosa mi dà perché se io lo montassi a 3 ma non cambia niente io perché devo rischiare di montarlo più stretto se poi non ho benefici io al lavoro lo faccio per dei benefici non perché non cambi nulla quindi bisogna anche sempre scegliere se ne vale la pena perché un motore che fa mezzo cavallo in più di tutti però non dura e fa metà dei giri non vince un motore che fa mezzo cavallo in meno però 12 giri te li porta a casa sempre costante sempre con le stesse prestazioni è vincente quindi bisogna stare attenti perché tante volte si estremizzano troppo questi tipi di concetti ma non solamente sull'accoppiamento pistone e canna su tutto anche il punto di carburazione non ti fa vincere la gara chiaramente gara pista non parlo accelerazione o cose particolari perché se poi il pilota non accelera abbiamo già finito quindi bisogna stare attenti soprattutto al setup mi raccomando carburazione detonazioni lubrificazione perché questi tipi di pistoni qua tipi del senso da scooter che sono sempre imballati ad alti regimi e chiaramente hanno uno stress importante delle temperature importanti quindi bisogna starci attenti bisogna seguirli e con questo tipo di attrezzatura possiamo andare a verificare l'usura in base al tipo di setup che abbiamo utilizzato bene ragazzi allora abbiamo fatto le nostre due chiacchiere in merito a questo argomento spero di avervi lasciato qualcosa di buono spero che il video vi sia piaciuto niente come sempre io vi invito a lasciare un like un commento fatemi sapere la vostra magari se avete delle esperienze particolari le condividiamo tutti insieme quindi scrivete sotto nei commenti iscrivetevi al canale spuntando la campanella degli avvisi per ricevere tutte le notifiche in merito nei miei video noi ci vediamo settimana prossima molto probabilmente con il race weekend di biletto